Trasferitosi con la famiglia a Bologna, frequenta la facoltà di giurisprudenza e contemporaneamente recita presso una compagnia di filodrammatici, dove presto deciderà di seguire la carriera nel mondo dello spettacolo. Diventerà, in prevalenza, un attore comico molto apprezzato dalle compagnie di rivista e operetta. Nel 1912 è con Maldacea. L'anno successivo insieme a Luciano Molinari forma un duo comico con cui avrà un ottimo successo presso il pubblico, apprezzato soprattutto per la sua bravura come imitatore. Tra le sue compagne di lavoro c'è anche Mimìa Ilmer. Nel 1919, con un propria compagnia a modo di scritturare la giovane Nanda Primavera, con la quale dividerà gran parte della vita e del lavoro. Si sposeranno nel 1939. La compagnia Riccioli Primavera per tutti gli anni 20 e 30 metterà in scena una grande quantità di spettacoli di varietà e operette, con le quali girerà tutta Italia. Il debutto nel cinema di Riccioli avviene nel 1932, con la reggia di Gustavo Serena. In poco più di 20 anni girerà 15 pellicole. L'ultima diretta Alessandro Blasetti, muore a Roma nel 1958.